Centinaia di appartamenti sfitti in questo periodo di crisi e così la soluzione potrebbe essere quella che da alcune settimane, mentre infiamma la polemica accoglienza nelle regioni del nord, sta adottando Treviso. Collocare i profughi destinati alla città in abitazioni vuote a piccoli gruppi. Si chiama accoglienza diffusa, gestita da cooperative già attiva in città pilota come Trieste, ma inevitabilmente anche quest'ultimo capitolo scatenerà contrasti sul fronte politico. Ora che Maroni lancia l'idea di ridurre i finanziamenti ai sindaci lombardi che aprono l'accoglienza e Zaia che chiude definitivamente le porte del Veneto ribadendo a Renzi, qui non c'è più posto. E chi sperava che dopo la campagna elettorale l'opposizione sul tema si sciogliesse come neve al sole è rimasto deluso. A Treviso intanto Abdallah Kesraji, referente della comunità migrante nella marca rilancia, con le difficoltà che si incontrano oggi nella locazione degli immobili e le forti tasse sulla casa, le offerte si stanno moltiplicando. Cioè sempre più privati proporrebbero le cooperative che gestiscono l'accoglienza ai propri appartamenti sfitti. Un primo nucleo di sette profughi da alcuni giorni è gestito da una mediatrice culturale del Senegal e un collega italiano. Se i sindaci accettassero anche di applicare una tassazione ridotta ai proprietari di immobili che affittano le cooperative sociali aggiunge Kesraji il problema si risolverebbe spalmandolo sul territorio.